Essere una donna è di più, di più, di più, di più Per sentirsi viva, è la gioia di amare, di sentirsi consolare 15 gennaio 2016, una data importantissima, direi quasi storica, per San Dona di Piave, per la casa di cura Sileno ed Anna Rizzola Ma ne parliamo con il dottor Madeischi, che cosa accade oggi di importante per la prevenzione? Ecco oggi parte un progetto che era in fili da tanto tempo e che non è localizzato solo a San Dona di Piave, la nostra USA Ma è aperto anche a tutti gli abitanti, diciamo, della provincia o dei dintorni che vogliono usufruire di questo servizio Per la prima volta se una donna viene mandata dal proprio medico con un'impegnativa, con so scritto Nodo sospetto oppure lesione sospetta, ecco Cioè un'impegnativa in cui veniva il dubbio, viene posto il dubbio di un fatto neoplastico La persona viene vista da uno specialista senologo entro le 24 ore Qui in casa di cura siamo due medici che abbiamo la specialità, se il dottor Grigio è il sottoscritto Uno dei due sarà sempre disponibile a vedere la pressione entro le 24 ore Successivamente, se durante la visita il senologo riconosce che effettivamente è una lesione sospetta E normalmente riusciamo a capirlo Entro le 24 ore successive fa o la mammografia o la tomosintesi o la risonanza magnetica secondo la necessità E quindi si definisce meglio la lesione e nelle successive altre 24 ore può arrivare a fare una citologia, una microistologia Cioè avere la definizione esatta del tipo di neoplasia con tutte le caratteristiche che la neoplasia ha Quindi noi riusciamo in questa maniera ad avere una diagnosi nel giro diciamo di 10 giorni, massimo 12 Da quando la persona è venuta a farsi vedere può essere operata e risolvere il suo problema Dottore, io nell'introduzione ho detto che è una data importantissima, quasi storica Perché va assegnata? Perché cambia dal passato che cosa? La tempistica e la tempistica nella prevenzione per quanto riguarda il tumore al seno è importantissima Una campagna, quella che parte con appunto la data di oggi che ha anche un nome molto significativo che è Ama il tuo seno Ama il tuo seno di cui la nostra Daniela Ribon che è qua che ti ho visto, è la nostra rappresentante E' quella che così rende l'immagine di questo E' stata scelta per tanti motivi, non solo per la notorietà ma evidentemente perché credo che sappia rappresentare D'altra parte voi sapete che rappresenta un po' tutti i convegni che facciamo Ecco, credo che sia molto importante questa cosa che facciamo E tra l'altro ecco, diciamo che adesso io ho chiesto e ordinato 100 magliette Con disegnato un cuore Ama il tuo seno e il nastrino delle persone operate al seno Che verranno distribuite gratuitamente alle persone che faranno richiesta Quindi ce ne saranno 100 che fra un po' di giorni saranno disponibili Proprio per cercare di sensibilizzare bene a volersi bene, ad arrivare presto alla diagnosi Perché se la diagnosi viene fatta in maniera veloce e la terapia anche in maniera veloce Possiamo arrivare al 90% di guarigione totale Che è una cosa che non ha confronto con quello che era una volta E poi devo anche dire che io ho sempre sofferto che una persona sa di avere un tumore E aspetta un mese, due mesi per l'intervento Non è possibile C'è una lesione? Bene Si sposta la persona che ha l'ernia, che ha la varice, che ha la colicistia, eccetera Tu hai un tumore, devi essere operato, devi essere risolto il problema E entro 10-12 giorni, non di più Ringrazio il dottor Madeischi e anche e soprattutto la casa di cura Sileno ed Anna Rizzola di San Dona di Piave Per avermi voluta appunto come citava il dottore, come testimonial per questa campagna Ed io ne sono davvero molto onorata E ricordo a tutte le donne che la prevenzione parte appunto dall'amore per noi stesse Dalla casa di cura Sileno ed Anna Rizzola a San Dona di Piave Sono in compagnia del direttore sanitario dottor Cestrone E con lei dottore vorrai parlare della campagna che appena iniziata ama il tuo seno Bene, allora la casa di cura Rizzola ha proprio di recente acquistato un nuovo mammografo Che ha delle caratteristiche particolari È un mammografo che funziona a tre dimensioni Per cui è più facile mettere in evidenza se ci sono dei noduli al seno E diciamo che una capacità di diagnosi percepisce un 40% in più rispetto ai mammografi tradizionali Questo è molto importante perché il tumore al seno è un tumore importante Frequente nelle donne e in questo modo con una diagnosi precoce può essere debellato Difatti noi vogliamo Abbiamo attivato proprio da oggi una campagna in questo senso Per cui se una paziente Potrebbe essere anche un uomo perché può capitare anche agli uomini il tumore al seno Se una paziente si presenta alla nostra accettazione con un nodulo, con un sospetto nodulo al seno Noi garantiamo la visita da un senologo nell'arco di due giorni lavorativi E poi successivamente il senologo fa fare qui da noi anche se serve la mammografia, l'ecografia Tutto quello che serve per arrivare a una diagnosi e quindi per arrivare poi alla terapia nell'arco di 5-6 giorni Questo proprio per permettere che la diagnosi precoce è quello su cui noi dobbiamo batterci per avere dei risultati efficaci Quindi diciamo, dottore, una campagna che punta innanzitutto a nuove strumentazioni Strumentazioni all'avanguardia che sono già operative qua presso la Casa di Cura E contemporaneamente anche ad una sensibilizzazione perché già il titolo della campagna Ama il tuo seno significa appunto una sensibilizzazione verso noi stessi Certo, è importante perché ci sono delle donne che sono molto attente a queste Altre che sono un po' distratte, cioè che pensano che sia una cosa così, che non capita E invece può capitare e quindi fare un periodico controllo è importante Ma soprattutto credo che sia importante il nostro impegno a fare una visita senologica Quindi non è una visita qualsiasi, una visita senologica nell'arco di due giorni lavorativi E arrivare alla diagnosi anatomopatologica e quindi a dire se è un tumore o se non è un tumore E se è un tumore deve essere operato o meno, nell'arco di 5-6 giorni Credo che questo sia per la nostra utenza una risposta molto importante Grazie direttore, adesso io invece lancerai direttamente il servizio Perché siamo andati anche a vedere la strumentazione ed abbiamo parlato col dottor Duss Vediamo Ci troviamo presso la casa di cura Sileno ed Anna Rizzola a San Nona di Piave Con una novità, una nuova macchina radiografica Ma ne parliamo nel dettaglio con il dottor Duss che oggi è qui con noi Allora, si tratta di un macchinario davvero molto innovativo per la diagnosi, la cura e la prevenzione del tumore al seno Di che macchinario si tratta? Allora, si tratta di un mammografo a tomosintesi A differenza dei precedenti mammografi 2D Che avevano i limiti della sovrapposizione dei tessuti Con questo mammografo di ultima generazione a tomosintesi Ci permette di eliminare gli artefatti dovuti alla sovrapposizione dei tessuti mammari nelle acquisizioni 2D Queste immagini poi vengono ricostruite In modo che con una sola esposizione e quindi con una significativa riduzione di dose Noi otteniamo sia le immagini 2D ricostruite che le 3D Che ci permettono di ridurre notevolmente sia i falsi negativi sia i falsi positivi E con l'acquisizione 2D ci permettono anche di non perdere le microcalcificazioni Che sono un altro importante elemento diagnostico E poi noi abbiamo sempre tradizionalmente avuto un approccio multidisciplinare Per la diagnosi della mammella Quindi noi facciamo sempre una diagnosi clinico strumentale Quindi la paziente che viene da noi fa prima la mammografia Poi la mammografia viene valutata dal medico radiologo Che prosegue la sua diagnosi con una valutazione clinica Completata dall'indagine ecografica Questo ci permette di arrivare a una sensibilità diagnostica Che supera il 90% Il 92-93% Direi si avvicina all'eccellenza Dottore adesso ci spostiamo perché qui avviene la prima fase appunto Della visita della paziente E poi che cosa accade? Andiamo a vedere nell'altra sala E qui siamo appunto alla seconda fase Che cosa accade? Quindi la paziente viene fatta accomodare in questo secondo ambulatorio Io esamino il risultato dell'esame mammografico E quindi do una prima valutazione dell'esame mammografico Dopodiché la paziente viene fatta accomodare nel lettino E si prosegue con la valutazione clinica e l'ecografia Questo ci permette quasi sempre di risolvere il problema diagnostico Ci possono però essere dei casi che necessitano di ulteriori step Uno può essere completamento dell'indagine con la risonanza magnetica Noi abbiamo una macchina molto performante a 16 canali E in alcuni casi soprattutto quelli che sono destinati ad andare O si dubita che possano essere di pertinenza chirurgica Si va alla biopsia Biopsia che può essere ecoguidata Oppure una biopsia guidata con metodica di tomosintesi In alcuni più rari casi Può essere necessario se la lesione è apprezzabile solo con la risonanza magnetica Si dovrà fare una biopsia guidata da risonanza magnetica Diciamo che la casa di cura Rizzola è attrezzata per dare una risposta a 360 gradi Per quello che riguarda la diagnostica senologica Poi il cammino della paziente può continuare con i controlli periodici Oppure in caso di necessità la casa di cura mette a disposizione anche la sua attività chirurgica Per dare una risposta definitiva alla patologia Grazie a tutti